Il piccolo Harry Dixon ha appena compiuto il suo primo anno di vita. Avrebbe potuto essere l'ultimo. Era così malnutrito che ha rischiato di non farcela. Il rosso indica pericolo di vita. Grazie agli amici dell'Unicef, come te, gli abbiamo fornito cibo terapeutico ricco di proteine, necessario per sopravvivere. Harry Dixon è stato salvato dalla malnutrizione grazie a interventi semplici e poco costosi. Eccolo dopo solo quattro giorni di cure. Questa storia è finita bene. Insieme, giorno dopo giorno, possiamo scrivere tante altre storie alliato fine.